L'Aquila come Pompei. Sono passati già tre anni dal sisma che l'ha distrutta e la città è ancora ridotta in macerie. Proprio di questo si è parlato oggi al Festival del giornalismo di Perugia. L'Aquila Dimenticata è il titolo dell'incontro organizzato dall'Associazione Giornalisti della Scuola di Perugia, moderato dalla cronista abruzzese Roberta Mancinelli. Tra gli ospiti il rettore dell'Università Aquilana Ferdinando Di Iorio, la giornalista del Corriere della Sera Stefania Ulivi, il freelance Angelo Venti e il fotoreporter Stefano Schirato, che ha mostrato con i suoi scatti una città distrutta anche ad anni di distanza dal sisma. Le scene più eclatanti che ho voluto condividere anche al di là della sofferenza delle persone mi ha colpito molto la dignità di questa gente. Il concetto di centro, il concetto di città che a tutti ci rappresenta, il corso, i bar eccetera eccetera, non esistono più e a distanza di due anni non è che la cosa sia cambiata moltissimo. C'è una profonda tristezza, senti proprio il rumore del silenzio nella zona rossa. Il dramma dell'Abruzzo non sempre è stato raccontato per quello che era. Informazioni distorte e un'immagine falsata della città hanno acceso l'indignazione degli aquilani contro la stampa. L'ha vissuta sulla sua pelle Maria Luisa Busi, giornalista del Tg1, contestata duramente nel febbraio 2010. Quella gente ha detto che era ora di finirla, insomma, con un'informazione vellutata, un'informazione immediata, un'informazione che faceva solo piacere in quel momento. alla rappresentazione di cui il populismo mediatico del precedente Presidente del Consiglio aveva bisogno. Questo ha portato a una distorsione proprio dell'informazione, a una consapevolezza che ancora c'è nel nostro paese e come anche all'estero, che all'Aquila vada tutto bene, quando invece all'Aquila il tempo si è fermato a tre anni fa.